Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, oggi è un video super 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 speciale perché sono molto molto contenta, è il mio primo video in collaborazione con un'azienda che si chiama Firmo, Firmo è un'azienda che produce occhiali da sole e anche occhiali da vista sono molto economici ma sono anche bellissimi, sono davvero anche molto alla moda ho visto praticamente quasi tutti i suoi occhiali e hanno deciso di regalarmi un paio di occhiali in modo da poter fare una recensione e mostrarli a voi allora io ho deciso di prendere questi che sono neri, classici ma hanno anche dei dettagli dorati ai lati e intorno proprio alle lenti e sono molto comodi, assolutamente non cadono, si regolano molto bene mi sembra un incetto, spero non fa niente ho deciso di prendere questi perché non solo sono neri, a me servivano proprio un paio neri grandi ma anche perché io non avendo problemi di vista ho solamente potuto scegliere quelli senza la gradazione, quindi senza la prescrizione quindi la particolarità di questa marca e di questa azienda è che produce occhiali sia da vista che da sole graduati quindi voi potete praticamente una volta scelto il vostro paio di occhiali compilare un modulo dove ci sono scritte tutte le informazioni per quanto riguarda i gradi che vi mancano e quindi poi a casa vi arriverà direttamente il vostro occhiale con le vostre lenti personalizzate hanno tantissimo degli occhiali, sempre di più alla moda davvero mi è quasi dispiaciuto non portare gli occhiali per averne un paio ho dovuto però per forza prendere quelli senza prescrizione a me piacciono e sono abbastanza comodi vedo anche bene perché è un problema che ho io e che praticamente con gli occhiali scuri io solitamente non vedo bene ma con questi riesco a vedere abbastanza bene innanzitutto vi lascio tutti i link sotto nella box informazioni in modo che potete andare direttamente al sito e guardare tutti i modelli e se vi piace quindi anche acquistare voglio specificare anche quando le sponsorizzate io non guadagno niente se voi cliccate sul link non sono link affiliati voglio farvi anche vedere però poi vi lascio comunque un video più nel dettaglio come vengono quindi presentati questi occhiali vi arriverà sicuramente l'occhiale dentro questa bellissima scatola porta occhiali è proprio bella, è anche dura, resistente una volta che si apre troverete anche il fazzoletto per pulire gli occhiali e un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è che vi daranno anche un cacciavite con alcune vitine piccole e cose sostitutive quindi secondo me questa è davvero una cosa geniale, ottima perché non tutte, io non ho mai trovato nessun paio di occhiali quando ho comprato più gli occhiali che mi dessero anche il cacciavite minuscolo per poter aggiustare gli occhiali cosa che succede molto spesso che si allargino e anche un sacchettino con la loro scritta firmo quindi spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia per favore non vi dimenticatevi di iscrivervi e anche di andare a vedere il link per connettervi direttamente al sito nel box informazioni e volevo anche ringraziare nuovamente firmo per aver creduto in me e vi lascio il video per farvi vedere meglio per farvi apprezzare più da vicino questi bellissimi occhiali e noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao